E' chiuso il carro, l'ho chiuso il carro, l'ho chiuso il carro, nessuno può più entrare, nessuno può salire, Luka Jovic, la suora serba, la suora serba, colui che salva puntualmente il culo a Stefano Pioli dopo una partita dove veramente ho visto così tante cacate tattiche da parte del nostro mister, così tanti errori che ora veramente ne dobbiamo andare a parlare perché non si può giocare così, non si può entrare in campo in questa maniera, non si può mettere quel centrocampo, ma Luka Jovic, la suora serba, avevo scommesso un euro su di lui quest'estate, avevo scommesso un euro, sapevo che il mio pupillo dai tempi dell'Eintracht non mi avrebbe mai deluso, scherzi a parte che poi fosse un mio pupillo ai tempi dell'Eintracht è anche vero, veniva da stagioni buie, ma questa è la squadra della sua rinascita, altri tre punti pesanti che portano la firma di Luka Jovic alla fine di una partita ragazzi che veramente solo Pioli e la sua scellerata idea di calcio stava complicando, il Frosinone è una buona squadra, il Frosinone gioca bene, il Frosinone si è sempre fatto rispettare in casa, lo sappiamo, lo sapevamo anche prima, però non si può entrare così, non si può entrare così un Milan che obiettivamente per l'ennesima volta, con questo 4-2-3-1, con questa coppia di centrocampo, Render Sadli che non fa filtre, non convince e non dà coperture, non potrebbe essere altrimenti, quando tu mi metti l'off to stick e buttati in avanti, e va bene, lo puoi mettere là ok, lo metti in avanti, e Giroud che non può difendere, e Leao che molte volte non difende, Render Sadli non hanno le caratteristiche, né per fare filtro, né per coprire così il campo, e mi riferisco ad Adli, e il Milan soffro, il Milan soffro, il Milan che praticamente, ora obiettivamente, parliamoci chiaro, passiamo in vantaggio in una grandissima giocata di Leao, grandissima giocata di Leao, perché riesce finalmente ad alzare la testa, e a mettere una palla al bacio, per Giroud che la frusta di testa alle spalle di Turati, ogni volta che c'è Turati è gol, detto questo, purtroppo sempre Leao protagonista di quella che per me è una cazzata, perché lì arriva su quel pallone in aria con troppa leggerezza, con le braccia messe che gli concediamo, all'ennesimo rigore all'Udinese, che Sule realizza, per poco, per poco Magnano non arriva a prendere questa palla, subiamo tantissime ripartenze, subiamo tantissimi acceli pericolose, perché la squadra è sempre, è costantemente spaccata a metà, il Milan quest'anno è così, è dall'anno scorso così, ed è un Milan che non sa cosa sia l'equilibrio, e Pioli continuo, in conferenza stampa, a rimarcare, è sempre meglio segnare un gol in più degli avversari, io sono solo felice dei tre punti oggi, mi tengo quelli, perché ragazzi veramente, il Milan non è un caso che sia la squadra con più espulsi, tra le grandi, perché obiettivamente con questo modo folle di giocare, spesso i centrocampisti si trovano a dover fare, a interventi rischiosi, per cercare di andare a recuperare la palla, molte volte fanno fallo, molti di questi falli sono falli per evitare ripartenze, per evitare azioni pericolose, quindi vengono inevitabilmente puniti con i cartellini gialli, il secondo tempo che inizia con un Frosinone in palla, un Frosinone che riesce a palleggiare, di qua e di là, e alla fine arriva il gol di Mazzitelli, gol di quella che stavolta sì, non la volta scorsa, questa volta sì, che è una papera di Magnande, perché il tiro non è potente, non è da posizione ravvicinata, e obiettivamente ho capito che rimbalza male, ho capito che mette la palla là, ma hai anche il tempo per posizionarti bene, questa è una paperissima di Magnande, bisogna essere sinceri, le cose vanno dette fortunatamente, fortunatamente, chi è che sta l'incattedra? Cosa vi avevo detto? Come lo dovevate chiamare dal suo ritorno? Matthew Cage, Matthew Cage trova il gol, mi sembra sia stato cross di Leao, spizzata di Giroud, si butta dentro la porta con la palla, Matthew Cage di testa, il pallone del 2 a 2, e poi ragazzi, e poi entra dalla panchita lui, lui, colui che ha il dono di praticamente fare avverare tutte le nostre preghiere, non a caso il suo soprannome, la sua riserva, che è esattamente al 90 secondi dal suo ingresso in campo, sfrutta un rimpallo in aria, e la mette alle spalle, i durati, per il 3 a 2, ci sono tante critiche da muovere in questa partita, ragazzi, Calabria, che è sempre il solito Calabria, un calciatore che non può stare nel Milan, un Milan che purtroppo, cioè, vive di questo momento magico di gabbia, che è poverino, viene anche in qualche modo, costretto a giocare, diciamo, in un modo che non lo esalterebbe più di tanto, ma lui riesce sempre a trovare l'anticipo scivolata, sempre, a trovare l'intervento decisivo in difesa, un po' timidino nella prima frazione di Gioco Teo, poi poco, diciamo, nel secondo tempo inizia a crescere, un Milan da ragazzi, che obiettivamente, ora, parlandoci chiaro, ed esultando tutti, per questi tre punti, siamo la solita squadra da montagna russa, siamo una squadra che non ha completamente equilibrio, e io non mi riesco a spiegare come si possa lasciare l'unico interditore in panchina, già non abbiamo equilibrio, già decidi di mettere l'off to stick, non mezzala, ma praticamente ormai gioco all'attacco, trequartista aggiunto, non puoi mettermi ad lì e rendersi, metti Musa, metti Musa fisso dentro il campo, fino a che, Benassene, non trova in qualche modo, non riesca a trovare i 90 minuti, metti Musa, e al suo fianco, metti uno, tra rendersi e dadri, ovviamente rendersi, quando rendersi dovrai riposare, perché le ha giocate tutte, e purtroppo, ricordiamo che è stato ammonito, nell'ennesimo tentativo, di salvare una ripartenza avversaria, salterà una partita importante come quella di Napoli, speriamo di recuperare Benassene dall'inizio, sarà importante, personalmente, giocherei con Benassene e Musa, personalmente, perché Musa ragazzi, si è visto appena entrato in campo, ha conquistato palle, ha conquistato falli, anche con qualche pregevole gesto tecnico, è riuscito a far uscire la palla, da situazioni insidiose, alla fine della partita, mi ha ricordato anche che, sì, quando si metteva lì, vi ricordate quando ci siamo qualificati, contro l'Atalanta, in Champions League, si è messo lì, quasi alla bandierina, a far uscire la palla ripetutamente, in faro laterale, per salvare questo 3-2, ci teniamo i tre punti, vittoria fondamentale, perché ricordiamo la sconfitta ieri, della Fiorentina contro il Lecce, c'è se non sbaglio Atalanta-Lazio, quindi potremmo ancora più allungare, da quelle che ci stanno dietro, e arrivare in Europa League, calmi, tranquilli, e rilassati, e in Europa League, voglio una sola persona, al centro dell'attacco, la sua raserva, rispetto per lui, il carro è chiuso, non si può più salire, forza Milan, ci vediamo domani, con il video pagelle, pollici, attenzione calvini, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, delle notifiche, tutto gratis, offro io, raggiungiamo, le 2000 capocce, nel minor tempo possibile, dai! aia!